Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Cominciamo subito, andiamo sul sito dell'agenzia ANSA, andiamo a vedere le ultime notizie che di mattina sono in questo periodo riferite alla crisi Russia-Ucraina. Ogni mattina troviamo un aggiornamento, ce n'è uno anche oggi, si spara nel Donbass e questo purtroppo non è una novità. La Russia testa i missili, fa passare queste operazioni come dei test che indispettiscono gli ucraini e dunque la situazione è sempre più incandescente. Una notte di attacchi da parte delle forze di Kiev, secondo l'agenzia TASS, i ministri degli esteri del G7 chiedono a Mosca di scegliere la via della diplomazia. Zelensky dice difenderemo il paese con o senza partner. L'Ucraina è lo scudo dell'Europa contro l'esercito russo, ha detto Stoltenberg. Mosca pianifica un attacco completo all'Ucraina. Von der Leyen, la Russia sta cercando di riscrivere regole d'ordine internazionale. La Francia e la Germania e connazionali lasciate l'Ucraina. Dunque avevano ragione gli Stati Uniti, la Nato, quando parlavano di una Russia che tutto voleva fare, tranne che ritirarsi come aveva lasciato intendere nei giorni scorsi con lo spostamento di alcune truppe che erano tornate alle rispettive guarnigioni. Ma si stima in circa 190.000 il numero dei militari russi nei pressi dei confini ucraini sulla cosiddetta linea di invasione. Questa è la situazione per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina e poi ci sono anche le notizie che arrivano dalle Olimpiadi di Pechino. Parallelo misto, oro all'Austria, Schleffin a secco. Quindi non ci sono notizie per quanto riguarda atleti o atlete italiani. Andiamo a vedere adesso i giornali, ci spostiamo subito sul Corriere della Sera che apre con la crisi Russia-Ucraina, il giorno della paura, Zelensky il mondo ci difende, separatisti sparano, due vittime, Putin guida i test mistilistici, qui vediamo delle operazioni con i carri armati blindati che si muovono lungo la linea del confine. Buone notizie per quanto riguarda gli stadi, i ristoranti e dunque le attività che da oggi al 15 giugno potranno tornare alla normalità. Tra un po' vedremo anche una grafica nella quale viene proprio pubblicata al Corriere della Sera la roadmap del governo per uscire da tutte le misure che in questo momento regolano la nostra vita, in particolare quelle relative all'utilizzo del Green Pass. Continuiamo con i giornali, andiamo a vedere la Repubblica, l'apertura della Repubblica è sulla crisi con gli ucraini sotto le bombe nel Donbass, Putin guida le manovre e testa i missili nucleari, Zelensky il mio paese fa scudo all'Unione Europea, giallo sui video delle evacuazioni da Donetsk, evacuazioni che ci sarebbero state oppure no, non si capisce se quei video siano o meno riferiti all'attualità. Sanità, due anni di Covid, ci sono costati 24 miliardi, il Ministro Speranza dice osseremo la mascherina al chiuso anche dopo il 31 marzo, ma questo obbligo potrebbe cadere a partire dal mese di giugno. Qui siamo sulla stampa, si spara, primi morti in Ucraina, ci sono dei militari in primo piano proprio con i fucili puntati, molto spazio, tutte le prime pagine in pratica dedicano le loro aperture a questa crisi, anche il manifesto scrive sotto tiro, il titolo del quotidiano comunista alla conferenza di Monaco, riappare Kamala Harris con nuove minacce di sanzioni a Mosca, ma il fronte energetico, Roma-Berlino divide Stati Uniti e Unione Europea, nel frattempo Putin con Lukashenko osservava le esercitazioni con lanci di missili balistici, nel Donbass altri colpi di artiglieria, morti due soldati ucraini ed anche Lugansk evacua i civili. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Fine Green Pass mai, quarta dose, il Fatto Quotidiano non titola in apertura sulla crisi russia-ucraina, pensa alle problematiche interne e parla di quarta dose per tutti, ma non è così perché la quarta dose è stata in questo momento autorizzata per gli immunodepressi, per quelle persone che magari hanno completato il ciclo, anche la terza dose, molto presto e che sono nelle condizioni fisiche di necessitare della quarta dose per evitare di beccarsi il virus in questa coda di quarta ondata e finire in ospedale. Unici al mondo, l'ideona del governo per l'autunno, fine Green Pass mai, quarta dose a tutti, queste sarebbero le intenzioni del governo secondo il Fatto Quotidiano, ma direi che al momento possiamo limitarci a quelle che sono le intenzioni e le iniziative di questo momento e cioè la quarta dose va solo a chi ne ha veramente bisogno. Il governo punisce i medici guariti, scrive la verità, il presidente del consiglio parla di riaperture, speranze in compagni vanno contro mano. Poi questa è la foto di Locatelli, mister CTS, tutte le profezie smentite, l'esperto immune alla realtà. Attacco frontale della verità, ma avviene ogni giorno l'attacco della verità sul governo, sul CTS, su chi si occupa della pandemia, l'arma segreta di Draghi in Russia, il Papa, tensione massima in Ucraina, Putin mostra i muscoli, Francia e Germania invitano i connazionali a lasciare il Paese, la missione del Premier è un sentiero stretto tra Nato e Mosca e Unione Europea, con un possibile colpo a sorpresa, quello appunto del Papa. Poi l'Atalanta che passa non totalmente, ma al 55% ad un fondo americano, mezza Serie A è americana, per Cassi vende, sono 8 su 20 le squadre con una proprietà a stelle e strisce, il nostro calcio evidentemente tira ancora e ci sono grossi gruppi finanziari che ritengono di poter investire nel nostro campionato con la possibilità di guadagnarci. Andiamo su Libero, per boicottare Salvini buttano 200 milioni, lo sgambetto della Lamorgese, il Viminale non intende accorpare amministrative e referendum, una mossa per non far raggiungere il quorum che pagheremmo noi. Si è sempre discusso su questo con i referendum che hanno delle date sempre separate rispetto ad altre occasioni in cui si va a votare e nelle quali sarebbe più facile ottenere anche il voto per il referendum, che invece rimane in data separata e spesso nel nostro paese non raggiunge il quorum, salvo casi eccezionali. Il giornale Putin contro tutti, lancio di missili, la Russia sfida il mondo europeo in fuga dal G7, solo appelli e in Ucraina si combatte tra parentesi con gli italiani. Il Cavaliere rilancia il nucleare, riprendere la ricerca e poi due anni di Covid, incifre e dubbi, contagi, decreti, dosi e impunità. Un'analisi su quella che è stata la pandemia negli ultimi due anni. Andiamo sul Gazzettino, il quotidiano diretto da Roberto Papetti, in quale abbiamo anche una collaborazione. Come sapete, caro gas, taglio IRPE fa rischio, si parla ad alto dunque non di crisi in Ucraina e Russia, i conti pubblici migliorano, 5 miliardi saranno utilizzati per i costi dell'energia, le scelte del governo, caccia ad altre risorse, fisco e concorrenza, Draghi pronta alla fiducia. Qui di spalla c'è ancora, c'è la notizia sulla crisi in Ucraina. G7 all'appello a Putin, Mosca ritiri le sue truppe. Due anni di pandemia, in due anni di pandemia, come è cambiata la vita? Sei storie per raccontare il virus, razzie e vandalismi per noi. Alla Baby Gang filmava le prodezze a Caorle, 15 minorenni, tra i 18 denunciati, danni gravi ad autobus, scuole, ad autobus, hotel e supermercati. Poi Veneto Banca, in giudizio, 2.306 risparmiatori. Sono tanti gli ex soci che chiedono i danni. Ha treviso la seconda addienza con la costituzione delle parti civili contro i manager accusati di truffa. Andiamo su Sole 24 ore, così chiudiamo dalla segna nazionale, leggiamo i titoli di apertura del quotidiano economico-finanziario, due ostacoli sulla ripartenza italiana, PIL e crisi demografiche. Il rimbalzo 2021 non basta, il Paese resta penultimo nell'Unione Europea per recupero dal pre-Covid. L'anno scorso, nascite verso il minimo storico, a quota 350.000. Putin testa il supermissile G7 Mosca. Scelga la diplomazia, poi sul gas, sul caro energia, più estrazioni e stoccaggi, ma anche più divieti. Il piano del governo, rilancio delle estrazioni fino a 5 miliardi di metri cubi. Questo nel nostro Paese per avere anche noi un po' di gas nostro, quindi evitare di doverci approvvigionare dai mercati esteri, da chi detiene quasi un monopolio del gas. Con la situazione attuale con la Russia e l'Ucraina in crisi, i gasdotti che passano da quelle parti, Putin che chiude, riapre i gasdotti e quindi le forniture, limita le forniture, i prezzi salgono e sta succedendo quello che è sotto gli occhi di tutti, bollette duplicate, triplicate, sia per le imprese, per le aziende che per le famiglie. Andiamo sui giornali locali, andiamo a vedere il messaggero di Udine e allora lo vediamo subito, ecco lo qui, bonus energia e auto, gli aiuti per le famiglie. Questo è il titolo del messaggero che punta sugli aiuti alle famiglie che sono stati disposti dal governo, guida gli incentivi per imprese, utenze domestiche e sconti per vetture ecologiche. Poi vediamo qui al centro invece una bella foto di uno dei nostri polisciistici, perché riparte il turismo in montagna, è caduto un po' di neve in questi giorni con la pioggia che abbiamo visto cadere qui in pianura, in città, che è stata neve in montagna. Si registrano arrivi anche dall'est, quindi riparte la stagione turistica, ancora ossigeno per le attività che sicuramente nei due anni di pandemia sono state abbastanza limitate e nella loro operatività in alcuni casi del tutto chiuse, quindi si sta riprendendo piano piano. Quest'anno è andata bene, la quarta ondata c'è stata, ma grazie alle vaccinazioni, grazie ai controlli, grazie al Green Pass che ha limitato gli assembramenti, grazie al senso di responsabilità degli stessi utenti la stagione invernale è iniziata e adesso si concluderà con una coda importante visto che si riparte e c'è tanta neve in montagna. Andiamo sulla pagina della cronaca di Udine per continuare la nostra rassegna, 10 comunali e 8 vigili NOVAX sono stati sospesi e adesso sono senza stipendio. I dipendenti di Palazzo d'Aroncover 50 dal 15 febbraio è richiesto il certificato verde rafforzato e dunque ci sono però naturalmente problemi di organico da risolvere ma a quanto pare si riesce a garantire il servizio nonostante questa problematica. Andiamo a vedere adesso il messaggero di Pordenone, vediamo se la pagina di Pordenone è uguale a quella della città di Udine, bonus energie d'auto, aiuti per le famiglie, siamo con lo stesso titolo, poi vediamo al centro invece la foto che è diversa rispetto all'edizione di Udine, si parla di lotta al Covid e del grazie di Pordenone ai volontari che hanno dato una grossa mano, si cominciano a fare anche un po' di bilancio e questo vuol dire che davvero la pandemia ci sta dando un importante segnale di calo che bisognerà utilizzare però come sempre con molta intelligenza, non è un liberi tutti, non può essere, non potrà essere un liberi tutti e chiedo alla regia dopo questa pagina se è possibile di farci vedere il grafico che abbiamo selezionato al Corriere della Sera con la roadmap per l'uscita graduale da tutte le restrizioni entro il mese di giugno. Questa è la pagina di Pordenone, persone speciali dedicata dunque ai volontari del Pordenonese che hanno partecipato in questi due anni a tutte le attività di assistenza per i malati Covid, per la prevenzione, per il controllo per esempio anche negli hub vaccinali, Ciriani e Loperfido, senza di voi non ce l'avremmo fatta a dare tutte le risposte, il sindaco pensa a un'iniziativa pubblica anche per il personale della sanità. Vediamo se riusciamo a rintracciare con l'aiuto della regia la pagina con il grafico del Corriere della Sera, eccola qui, ve la mostriamo subito, la facciamo vedere ovviamente ingrandita, un grafico, una, guardate qui che bella, colori che permette davvero di apprezzare in maniera molto chiara è semplice, qual è la roadmap del governo per uscire dal Covid, dalla capienza degli stadi, a proposito da oggi si entra al 75%, alla certificazione verde per i locali, negozi e mezzi di trasporto, le tappe di avvicinamento, alla completa normalità, facciamolo questo tour, sembra essere un percorso di un gioco di società, ma invece è la roadmap del governo, il calendario della ripartenza, allora da oggi capienza di spettatori negli stadi che sale al 75%, eravamo al 50%, è stato deciso di portare tutto al 75%, a prescindere da quello che è il colore attuale della regione, anche se i colori ormai stanno per essere aboliti e quindi non ha più senso parlare di giallo, arancione e bianco, la nostra regione però passa in giallo sicuramente, alla prossima settimana tutta l'Italia sarà in giallo. 10 marzo riprendono le visite ai ricoverati in ospedale, almeno 45 minuti al giorno, si potrà andare a far visita alle persone ricoverate in ospedale senza più problemi, almeno per 45 minuti al giorno, poi si torna a mangiare e bere nei cinema e nei teatri, il divieto era previsto fino al 31 marzo, scade lo stato di emergenza e dunque dal 31 di marzo si tornerà a poter mangiare e bere nei cinema e nei teatri, adesso si può andare al cinema, si può andare al teatro ma non si può andare al bar a prendere la bibita o i popcorn per chi è al cinema, ma soprattutto le patatine e consumarle non si può fare, quindi si può andare soltanto ad assistere allo spettacolo, ma ancora un po' di pazienza perché dal 31 marzo scade lo stato di emergenza e termina anche questo divieto. Da aprile termina l'obbligo di esibire il Green Pass in bar e il ristorante all'aperto, ma anche in luoghi dove si pratica sport sempre all'aperto. permarrà il divieto di accedere in luoghi chiusi senza il Green Pass, ma all'esterno si potrà tranquillamente consumare, si potrà sedere ai tavolini del bar all'aperto senza il Green Pass e si potrà anche partecipare ad eventi sportivi e non sarà necessario esibire il Green Pass per la pratica sportiva nei luoghi all'aperto. Questo dal mese di aprile, poi andando avanti a giugno si arriverà pian piano a togliere tutte le restrizioni, stop al Green Pass per i lavoratori e scadrà anche l'obbligo vaccinale per i over 50 che in questo momento vede i over 50 non vaccinati, multati, con la cifra ridicola, passateci il termine di 100 euro, ma con l'obbligo del Super Green Pass, cioè Green Pass rafforzato sul posto di lavoro, i over 50 che non hanno la vaccinazione, non hanno il Super Green Pass e non possono andare a lavorare, che è sicuramente molto più pesante come sanzione e come regola rispetto ai 100 euro della multa. Speriamo si possa superare questo problema prima possibile perché poi c'è tanta gente che ovviamente ha bisogno di lavorare ed è giusto che torni a lavorare. Giugno-luio termina l'obbligo di esibire il Green Pass in uffici e negozi e dunque si arriverà praticamente alla fine di tutte le restrizioni e di tutte le regole che sono state imposte correttamente, a nostro parere, per fronteggiare la pandemia. Allora, vi abbiamo mostrato questo bel grafico del Corriere della Sera perché ci ha permesso di fare davvero una carrellata precisa e puntuale della roadmap a partire dai giorni nostri da oggi fino al mese di giugno-luio, quindi quando saremo già con la stagione estiva aperta. Andiamo a continuare la nostra segna stampa, abbiamo visto Udine e Pordenone, adesso siamo con il Gazzettino, la prima pagina l'abbiamo già vista, andiamo a vedere la pagina del Friuli del Gazzettino, l'apertura del fascicolo dedicato alla nostra zona, alla nostra città, alla nostra area geografica, vaccini under 12, la campagna è fallita secondo il Friuli, tra i 5 e i 11 anni sono il 25% del bambino è stato sottoposto a profilassi contro il Covid, il Friuli al terz'ultimo posto in Italia. Ci sono anche cause organizzative, pochi luoghi aperti nella settimana, pediatri di base disponibili a macchia di Leopardo e poi l'addio di Lignano alle tre vittime del tremendo incidente sulla A4 e quindi la foto di Nauel Molina che oggi sarà tra i protagonisti del match contro la Lazio, questa sera si gioca alle 20.45, ne parleremo nella pagina sportiva. Costi dei materiali alle stelle saltano gli appalti, insomma ci sono tanti problemi dal punto di vista dei lavori di varia natura, lavori edili, lavori di bonifica come in questo caso che saltano per l'impossibilità di garantire da parte delle aziende l'opera a causa di costi elevatissimi, costi di energia, costi di materie prime, tutto si traduce in un aumento spropositato del costo di produzione di un qualsiasi servizio, di una qualsiasi attività e dunque le problematiche sono enormi, sono enormi davvero. Speriamo che si possa iniziare a breve a vedere un calo del costo dell'energia e c'è l'intervento del governo che però da solo non può bastare perché è un intervento a spot, speriamo che si arrivi ad un abbassamento delle tariffe in maniera naturale e il più a lungo possibile. Andiamo a vedere adesso invece la pagina del piccolo di Trieste, andiamo sulla prima dell'edizione cittadina, liste d'attese in ospedale, 3 milioni per ripartire, riapertura graduale di reparti e sale operatorie, i primari, manca il personale, questo è un altro dei problemi, ci sono eventualmente anche le strutture che adesso cominciano ad essere disponibili, più libere, meno pressione per meno malati covid ricoverati, ma manca il personale, in qualche caso perché si tratta di personale sanitario non vaccinato che dunque è sospeso e non può lavorare. Referendum anticabinovia, sono state raccolte 940 film in 90 minuti a Trieste e dunque è c'è un buon movimento, un numeroso movimento di persone che non vuole la cabinovia. Andiamo avanti, vediamo la pagina di Gorizia e Monfalcone, andiamo a leggere i titoli della pagina dedicata all'Isontino, vedremo poi anche la pagina di cronaca per la città di Gorizia, liste d'attese in ospedale, questo è il titolo identico a quello di Trieste, cambia invece la fotonotizia, diffide a chi usa il marchio tutelato della rosa, la famosissima rosa di Gorizia, partono le diffide a chi usa il marchio tutelato in maniera impropria. Andiamo sulla pagina della cronaca dove si parla proprio di questo, la rosa di Gorizia circondata dai falsi, diffide a chi cerca di usare il marchio. La controffensiva è partita dai produttori, stop alle tante imitazioni, la specialità è approdata nei ristoranti di Parigi e di Londra. Queste le pagine del piccolo, andiamo sul Corriere Veneto, l'apertura del quotidiano, in questo caso prendiamo la pagina di Treviso e Belluno che è identica alle altre, autonomia, legge, quadro più vicina, gelmini, stiamo limando il testo con il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanza, l'ipotesi esame in Consiglio dei Ministri a marzo, mentre i governatori Zaia e Bonaccini fanno asse, Fontana si dice scettico, il Parlamento sarà un Vietnam. Oggi passaggio di consegne in Mondovisione, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino, il passaggio di consegne perché le prossime nel 2026 si terranno a Cortina e Milano, miliardi di occhi su di noi che promo per le Dolomiti. Andiamo a vedere qui a destra l'assessore allo sviluppo della Regione Veneto, Roberto Marcato, intervistato dal Corriere del Veneto, dice Tanti mi chiedono di fare il segretario della Lega, una Lega in subbuglio, a livello nazionale che nelle sue dinamazioni regionali, anche Zaia nei giorni scorsi ha dovuto intervenire perché voci lo davano come possibile, nuovo leader della Lega e lui ha smentito, in questo caso poi arriva anche Roberto Marcato in Veneto, gli viene chiesto di fare il segretario della Lega, è stato intervistato dal Corriere del Veneto, sono argomenti questi interessanti che sicuramente tratteremo nei prossimi giorni nelle nostre trasmissioni per capire come si sta muovendo uno dei partiti del suo interno, uno dei partiti più importanti del nostro Paese che attualmente ricordiamo anche al Governo a sostenere la maggioranza che tiene su il Governo di Mario Draghi. Dal Corriere del Veneto possiamo passare adesso alle pagine sportive, andiamo subito sul gazzettino per partire con la pagina dedicata all'Udinese, andiamo a vedere il titolo di apertura, la spinta del tifo per piegare i capitolini, ieri c'è stata una visita dei tifosi dell'Udinese all'esterno del Bruseschi per sostenere la squadra, per far passare il messaggio di calore e vicinanza alla squadra che ha bisogno di far punti, i fans bianconeri sono fatti sentire al Bruseschi, Cioffi dice veniamo da sei punti persi, mi aspetto buon calcio e identità e qui c'è Gerard Eulofeu che oggi dovrebbe far coppia in attacco con Beto che torna titolare dopo un turno in cui è rimasto inizialmente in panchina quello di Verona dove Cioffi aveva preferito success dal primo minuto 2003 contro la Lazio di Mancini, arrivò una vittoria che valse la Coppa UEFA, non c'è una tradizione felicissima nei match contro la Lazio alla Dacia Arena ma speriamo che si possa assolutamente rimediare a partire da oggi pericolo. Pedro, una sentenza che fa male, l'attaccante spagnolo ha già segnato tre volte all'Udinese ma facciamo gli scongiuri, siete autorizzati tutti a fare gli scongiuri in qualsiasi modo non vi preoccupate, nessuno vi potrà vedere. Andiamo qui sulla pagina dedicata al Pordenone, Reggio, Ramarri in concludenti, la regina li infila due volte. Il Pordenone spreca, la regina no, questo in sintesi quello che è successo e dunque ha vinto la regina per il Pordenone, la speranza di salvezza si allontana. Andiamo sulle pagine del messaggero di Udine per vedere i titoli sull'Udinese sulla partita contro la Lazio, l'Udinese scivola sempre più in basso, con la Lazio deve muovere la classifica, è necessario guardarsi alle spalle e far punti, complici le gare da recuperare che sono due, quella con la Serenità e neanche quella con la Fiorentina dopo la decisione del giudice sportivo arrivato in settimana. La vittoria della Samp accorcia ancora di più la classifica, compatta il gruppo lì dietro, può essere raggiunta da Cagliari e Venezia in zona retrocessione, anche in questo caso autorizziamo tutti a fare dei grossissimi gesti che possano allontanare questa previsione nefasta. Speriamo che nessuno ci raggiunga e che l'Udinese batta la Lazio e si allontani anzi dalla zona retrocessione. Facciamo il punto anche con l'aiuto della grafica, ieri si sono giocate alcune partite, come sempre il campionato spezzatino propone gare a partire addirittura dal venerdì quando hanno giocato Juventus e Torino ed è finita 1-1, ieri la Sampdoria ha battuto l'Empoli per 2-0 con una doppietta di Fabio Quagliarella, 2-2 tra Roma e Della Sverona con il Verona in vantaggio 2-0 raggiunto da gol di due ragazzini della Roma gettati nella mischia da Murigno e che hanno permesso alla Roma di conquistare almeno un punto. Ed è finita 2-2 anche tra Salernitano e Milan con il Milan che ha perso l'occasione per andare a più 4 in attesa delle partite di oggi sull'Inter e quindi l'Inter è lo stesso Napoli che possono provare a ricompattarsi ancora di più in un vertice di classifica che è già di per sé molto corto. come potete vedere 56 Milan, 54 Inter, 53 Napoli. Questa sera può cambiare qualcosa dopo la partita dell'Inter e poi domani arriverà la gara del Napoli contro il Cagliari. L'Udinese eccola lì con due partite da recuperare a quota 24 punti. Cagliari e Venezia sono dietro, il Genoa ancora più dietro, è una classifica molto corta però l'Udinese ha due partite da recuperare quindi potenzialmente sono in paio 6 punti per l'Udinese che dovrà affrontare la Salernitana nella Fiorentina quando la Lega stabilirà la data dei recuperi. Non bisogna sottovalutare assolutamente la Salernitana perché con la squadra rimessa a posto nel mercato, la nuova proprietà ha fatto degli investimenti, ha cambiato l'allenatore, ieri ha strappato un punto al Milan capolista. Quindi il classico testa-coda si è risolto con il pareggio 2-2 tra Milan e Salernitana. Dunque occhio, andiamo avanti adesso con lo sport e ci portiamo sempre sul messaggero per dare un'occhiata alla palla canestro. Oggi gioca la Old Wild West e noi saremo in diretta a partire dalle 15.30 con l'ampio pre-partita a cura di Giovanni Aiello dal pala carnera. Arriva Capodorlando e la classica partita trappola. Insomma, questa è una giornata in cui bisogna fare scongiuri in continuazione. Facciamoli anche per l'Apu. I siciliani senza play a causa del Covid, ma mercoledì stavano per battere Cantù. Sarà decisivo l'approccio iniziale. Boniccioli deve ancora fare a meno di italiano. L'Apu ha dimostrato però di essere in grado di sopportare qualsiasi assenza a un gruppo compatto, tutti in grado di dare il loro apporto come dimostrato finora. L'Apu è capolista e speriamo ci possa rimanere fino al termine della stagione regolare per giocarsi poi i play-off in condizioni di estremo vantaggio. Andiamo a vedere adesso invece la Gazzetta dello Sport con la prima pagina che titola sul testa-coda Milan. Sorpresa Salerno, pari della capolista contro l'ultima. Apre Messias, flop di Magnan. Alla fine Rebic evita il KO e finisce 2-2. Pioli dice che errori, sono deluso. Freccia Inter. Stasera Stanzino contro il Sassuolo. Lautaro Sanchez per il sorpasso. Inzaghi studia Scamacca e Fratesi. L'Inter ha una partita in meno, quella da recuperare contro il Bologna, sempre per le note vicende delle Asle che bloccarono nel periodo più duro della pandemia alcune squadre come l'Udinese e come lo stesso Bologna che non si presentò in campo a Bologna contro l'Inter perché in quarantena su ordine dell'Asle. C'è da dire che finora l'unica squadra che ha subito dei danni da questa vicenda è stata proprio l'Udinese perché contro l'Atalanta, che vediamo qui in prima pagina sulla Gazzetta della quale parleremo tra un attimo, contro l'Atalanta l'Udinese fu costretta a scendere in campo. Fu costretta a scendere in campo e perse 6-2 come sapete perché? Perché l'Asle aveva messo in quarantena la squadra in seguito ai casi di positività e dunque l'Udinese poi fu costretta con un ricorso a causa di un ricorso vinto dalla Lega il giorno prima della partita a mettere insieme una squadra a giocare contro l'Atalanta. Atalanta che qui adesso sulla prima pagina della Gazzetta è riportata con Zapata che gioca a palla a canestro perché? Perché la palla a canestro è lo sport più importante per l'antonomasia degli Stati Uniti e dunque l'Atalanta passa in parte a un gruppo degli Stati Uniti, un gruppo finanziario, dentro i soci degli Stati Uniti Steve Paiuca, i valori dei miei Boston Celtics, c'è Zapata con la palla in mano che sta per andare a schiacciare, Zapata fa un altro mestiere, lo fa molto bene, quello di attaccante nel calcio e fa molti gol. Allegri a giudizio, la Juve non perde ma è a meno 8 da Pirlo e Vlaovic fatica e poi invece il Torino scalata a Bremeri, il muro del Toro ora ha i numeri da top in Europa. Dalla Gazzetta dello Sport andiamo a vedere le altre pagine di Sport, le prime dei quotidiani sportivi che sono Tutto Sport e Corriere dello Sport che mancano all'appello, vediamo se riusciamo a farcela, eccole qui, Tutto Sport assist all'Inter con il pareggio tra Salernitana e Milan ma non solo all'Inter perché c'è anche il Napoli, non bisogna sottovalutare il Napoli che è lì in una classifica molto corta. Champions, altra Juve, martedì in Spagna contro il Villareal serve un atteggiamento diverso rispetto al derby, Allegri ancora in emergenza, oggi esami per Rugani e Dybala, qui a destra di spalla si parla del Torino, che è Toro con voi dopo il pareggio contro la Juve, ecco l'Atalanta con tre soci degli Stati Uniti con i percassi che rimangono al comando. Volata di bronzo e un allollo da Oscar, Pechino 2022 dopo l'argento nei 3.000, Francesca sale sul podio nella Mass Start, oggi sarà portabandiera nella cerimonia di chiusura. È andata molto bene ad Olimpiadi Invernali per la nostra squadra degli sport invernali che ha portato a casa medaglie superando l'Olimpiadi precedente. Testa coda Milan, l'abbiamo già visto, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, andiamo sul Corriere dello Sport, diavolo che frenata per il Milan a Salerno, oggi l'Inter con il Sassuolo per il sorpasso, pari del Milan a Salerno, Roma e i Bebi di Mourinho filmano la rimonta 2-2 con il Verona, Messia si illude, si parla di Salernitana Milano, poi l'1-2 di Granata con Bonazzoli e Diuric, il 2-2 di Rebic, non soddisfa Pioli, troppo frenetici e poco lucidi, il Napoli domani contro il Cagliari. Pepito Rossi, meraviglia la Maradona, una gioia speciale, il gol più bello del mondo. Rossi che sta giocando, è tornato a giocare, ieri la sua SPAL affrontava il Vicenza. Andiamo a vedere qui in basso invece Conte da impazzire, che lezione a Pep Guardiola. Il Tottenham batte il City 3-2, decide Kane, ma l'uomo partita è Kuluseschi. E ora il Kane, Harry Kane, l'attaccante del Tottenham, ma l'uomo partita è Kuluseschi, l'ex Juventus ed ora il Liverpool è più vicino, a meno 6 punti. Il Corriere dello Sport celebra la Lollobrigida che vince il bronzo e poi a rivederci a Cortina si chiude l'Olimpiadi di Pechino dove va segnalato, fatto molto importante, che al di là di qualche caso dei Covid che ha colpito dirigenti, per esempio Malagò che è andato in Cina si è beccato il Covid e è rimasto lì in quarantena, era la fase proprio iniziale, non erano ancora iniziate le Olimpiadi. Per il resto tra gli atleti non si è sviluppato nessun focolaio, quindi ha funzionato alla perfezione il controllo, la massima attenzione e dunque tutto è filato liscio. Partiranno adesso le Paralimpiadi dal 27 di febbraio e noi continueremo a seguire gli atleti italiani delle Paralimpiadi, del Comitato Paralimpico degli Sporti Invernali che parteciperanno alle Olimpiadi e ci sarà anche Milana Bizzarrini, il medico del Gervasutta che è il responsabile medico del Comitato Paralimpico italiano. È stata già a Tokyo con le Olimpiadi estive e sarà anche a Pechino per queste invernali e la intervisteremo per farci raccontare di questa esperienza con gli atleti azzurri sulle nevi della Cina, nevi artificiali nella maggioranza dei casi. Andiamo a chiudere la nostra rassegna con il programma dei principali appuntamenti di oggi in diretta. Come detto c'è la partita di basket alle 15.30, con l'inizio 15.30, l'orario che è sbagliato, non 15 ma 15.30, al pre-partita alle 16 la palla a 2, il TG alle 12, gli altri TG in diretta come quello delle 19, poi spazio alle 19.45 a studio e stadio per seguire in tempo reale Udinese-Lazio. Ampio pre-partita, gara in tempo reale e interviste e commenti al termine del match, conferenze stampa e interviste, alcune delle quali in esclusiva per Udinese TV. Vi lascio al meteo le previsioni di oggi sulla nostra regione, ci vediamo a mezzogiorno. Arrivederci. Un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. La pressione torna ad aumentare per la giornata di domenica sul Friuli Venezia Giulia. Infatti ci attenne una giornata nel complesso, stabile e soleggiata. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa tra Udine e Pordenone. Non mancheranno spazi assolati, il tutto in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Da segnalare solamente qualche annuvolamento di passaggio, soprattutto in mattinata, sulle zone pianeggianti. Temperature contenute al primo mattino, minime intorno ai 3-5 gradi. Temperature massime che torneranno ad aumentare e raggiungeranno i 12-13 gradi. Spostiamo la nostra attenzione nel dettaglio anche sulla situazione prevista per domenica tra Gorizia e Trieste. Situazione praticamente analoga, non mancheranno infatti spazi assolati. Transiterà solo qualche annuvolamento nel corso della giornata, il tutto in un contesto di stabilità atmosferica. Temperature minime intorno ai 5 gradi su Gorizia, 7 gradi su Trieste, 12-13 gradi di massima. Ventilazione debole con mare ovunque calmo. Dettagli in merito alla vostra località, come sempre, sull'app di Trebi Meteo. Dettagli in merito alla vostra località.